libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare l'Italia è sempre stata libera per carità l'Italia vede con il binocolo la libertà debiti enormi cerchi un lavoro nei dintorni ma come si fa quindi a vivere i giorni nostri usando sempre e solamente la parola ha più debiti l'Italia che io quando andavo a scuola si scende in piazza non si arriva a una conclusione non si comprende niente aspetta e spera la pensione gli imprenditori all'astrico hanno sudato con fatica per poi morire e lasciare anche la famiglia la gente in qualsiasi modo qua non resiste si dà fuoco si butta sotto un treno e Dio non esiste non ci tranquillizziamo ormai in nessun modo noi che speriamo di sopravvivere il giorno dopo ma ogni giorno in ammazzata pesante e palese tirare la corda perché non si arriva a fine mese libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare tanti sprechi, tante lotte, vite infrante il potere della gente nello sconfiggere il gigante il governo non fa niente noi paghiamo le tasse per sostenere uno show fatto di sole farse rivoluzione alla crisi mi stendo morto a supino il popolo deve sempre stare unito ci deve essere sempre un metodo incentivo a battere il governo come il muro di Berlino e qua la crisi si vede chiunque ci crede i politici predatore noi siamo le prede la bella Italia possiede mari e monti ma con monti al governo finiremo sotto i ponti tu non rispondi alle richieste poi ti opponi confondi quello che dico ma poi infine lo proponi proteggo tutto quello che mi rimane caro poi mi chiedono se sono orgoglioso di essere italiano libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare libertà è quello che il popolo chiede ma già sa che non la può avere ora qua ci si dà da fare perché questo paese è da liberare Grazie a tutti